Grazie a tutti Nella borsa? Nella borsa e là dove siamo scesi con il pulmo era la piazza delle stelle, la classe dell'Etoile, là questo battimento qua è la comune di Strasburgo Ah beh, e quello è il tram di Strasburgo? Questo è il tram, abbiamo il tram da 20 anni fa, c'è la piattaforma che lo gira? In più quello che è bello è che da noi abbiamo i parcheggi fuori della città, vuol dire adesso dove va l'autista va a porre un parcheggio E allora si sai con la macchina con 5 persone fai 3,80 euro e ricevi 5 biglietti e andate a ritorno gratuiti per il ritardo Saluta te le tocco, va, va, ciao Fa così, fa ciao Ciao, così, così A porre, grazie Buongiorno a tutti, ci troviamo come vedete sul battello che ci potrà fare un giro di Strasburgo Qui è pieno di turisti, puoi vedere qua anche qua, va, due turisti Un turista? Non so di dove sono, sei franceschi o tedeschi? No No Cazzo No 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 Germani Germani Non doggio Come è la canzone? No, no, è bellino Vabbè, saluta, purtro, ciao, dopo ti spiego andando avanti Bene Dopo, questo va su, va su internet questa roba Internet Ah, internet? Dopo ti do l'indirizzo No Dai Dai Vabbè, ciao, ti saluta, adesso Andiamo avanti e vediamo quello che ci farà Cosa si propina le battee? Ok Chi è il propinatore? Ciao, è lui Lui Che vorrei propinare? Che vuoi propinare? Che sarà mai tutto questo Chi è questa turista qui? Questa è donatellina 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 Notare l'unghia? Lunghia, paccata Lunghia, paccata Perché pareggiazzaio Un po' di pioste che ho a te Va bene Questa si è rotti i coglioni e mollata Tanto si Sono deputati a mangiare Ora sono a mangiare Ognuno nel proprio paese Sì Arriverà Gli algorieri Arriveranno tutti Come potete vedere Anche te li tocco È arrivata Il Parlamento Europeo È puntuale Mi dico un po' Come funziona Allora Qui ci sono 750 deputati Che stanno Una settimana Qui A Strasburgo E per tre settimane Stanno A Bruxelles Però molte volte Non si trovano Perché fugono tutti No Per strada Arrivano Si incontrano per strada Però non è come in Italia Perché se uno qui non vota Non viene pagato In Italia In Italia Se non c'è sta Viene pagato di più È vero che i parlamenti italiani E i parlamentari italiani Prendono I parlamentari italiani Sono i più pagati Di questo Parlamento Perché ogni parlamentare Prende i soldi Che prende un parlamentare Del proprio paese Gli italiani Sono quelli che ho pagati No 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 Chi è adesso? No Chi è adesso? Ci può sapere? Marta Dove è andata Marta? Sta su di sotto Che c'è una malata Adesso vado subito a vedere Molto bene Allora Cogliamo il collegamento Vediamo anche la sua spalla Diego Cosiciccio Come quelli lì Cosiciccio Grazie a tutti Grazie a tutti, e abbiamo trovato Michele. E quando c'è il bambino e la cella, e la giova in su è bella, e il suo cuore batterà. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio. La valigia sull'etro è quella di un lungo viaggio.